tessuto caratterizzato da cellule poste a stretto contatto tra di loro, con l'interposizione di scarsa matrice extracellulare. C'è da dire che il tessuto epiteliale è un tessuto innervato, però non è vascularizzato. Infatti questo è accompagnato sempre da tessuto connettivo, da cui trae nutrimento attraverso i vasi che si trovano nel connettivo. È separato dal connettivo sottostante da una lamina basale, che questa lamina basale è un particolare tipo di matrice extracellulare, ovviamente prodotta sia dalle cellule epiteliali che da quelle connettivali, ed è caratterizzata dalla presenza di proteine tipo il collagene di tipo 4, l'alaminina, proteogligani e glicosaminogligani. Per quanto riguarda invece l'origine del tessuto epiteliale, come abbiamo detto prima, gli epiteli derivano da tutti e tre i foglietti embrionali, cioè dall'ectoderma, dall'endoderma e dal mesoderma. In particolare dall'ectoderma derivano l'epidermite, le epiteli sensoriali, le ghiandole sebacee, le ghiandole sudoripare e la ghiandola mammaria, perciò tutte quelle ghiandole che sono annesse agli epiteli. Invece dall'endoderma originano gli epiteli di rivestimento degli organi cavi e anche le ghiandole annesse a questi organi, per esempio il fegato e il pancreas. Invece dal mesoderma dà origine all'endotelio che riveste i vasi sanguigni e le cavità corporee, le cavità del cuore. Anche il rivestimento delle cavità sieriose, quale la pleura, il pericardio e il neodoneo. Darà origine anche agli epiteli che ci sono all'interno del rene, la corticale del sorrene e gran parte delle vie genitali e urinarie. Perciò rivediamo che il tessuto epiteliale è costituite da cellule contigue in stretto contatto tra di loro e poggiano su un tessuto connettivo. riveste sia perciò la superficie esterna del corpo, come vedremo, che andrà a formare l'epidermide, e riveste la superficie interna degli organi cavi che comunicano con l'esterno, per esempio l'esofago, per esempio l'intestino e anche ovviamente formano l'endotelio dei vasi sanguigni. Gli epiteli possono essere classificati in tre categorie a seconda della loro funzione e della loro localizzazione. Infatti distinguiamo epiteli di rivestimento, epiteli ghiandolari e epiteli sensoriali. Gli epiteli di rivestimento rivestono la superficie corporea e gli organi cavi. Gli epiteli ghiandolari invece sono specializzati nella secrezione endocrina ed esocrina. Gli epiteli invece sensoriali intervengono nella recezione di stimoli. Le principali funzioni dei tessuti epiteli sono di protezione dei tessuti sottostanti da vari stimoli sia chimici che meccanici, per esempio l'epidermide. Hanno una funzione di scambio e di trasporto di sostanze, per esempio l'epitelio intestinale. Hanno la funzione di produzione e di secrezione, per esempio, nelle epiteli ghiandolari, oppure hanno la funzione di captazione di stimoli di varia natura, per esempio le epiteli sensoriali di occhio e di orecchio. Gli epiteli di rivestimento possono essere classificati sia in base alla forma delle cellule e sia in base al numero degli strati che li compongono. In base alla forma delle cellule, in particolare delle cellule, quelle superficiali, cioè dell'ultimo strato, gli epiteli possono essere distinti in pavimentoso, in cubico o in cilindrico, mentre in base al numero degli strati gli epiteli possono essere monostratificati o semplici, le cui cellule poggiano tutte sulla lamina basale e pluristratificati o composti se sono composti da più strati di cellule. Esistono quindi epiteli pavimentosi, cubici o cilindrici, semplici, ed epiteli pavimentosi, cubici o cilindrici composti. Inoltre si possono individuare due classi di epiteli speciali, che sono l'epitelio pseudostratificato e l'epitelio di transizione. L'epitelio pseudostratificato è un epitelio semplice, le cui cellule poggiano tutte sulla lamina basale, ma presentano altezze differenti, per cui non tutte raggiungono la superficie. Per questo un'osservazione superficiale potrebbe sembrare un epitelio pluristratificato. Questo anche perché i nuclei, ovviamente, hanno altezze differenti e possono essere così scambiate per cellule appartenenti ad un epitelio composto da più cellule, perciò pluristratificato. Invece l'epitelio di transizione è esclusivo della vescica, un organo che cambia continuamente volume a seconda della quantità di urina che contiene. Quando è vuota l'epitelio è pluristratificato, invece quando è piena l'epitelio si distende e diventa monostratificato. Perciò questo è un epitelio che adatta la propria morfologia a rispetto della sua funzione. Gli epiteli pavimentosi pluristratificati possono essere suddivisi in cheratinizzati e non cheratinizzati. Tra quelli cheratinizzati troviamo l'epidermide. L'epidermide, come vedremo più avanti, è un tessuto pavimentoso pluristratificato che serve a proteggere la superficie del nostro corpo sia da urti meccanici che da insulti chimici. Vedremo che la cheratina è una proteina filamentosa che si immagazzina nelle cellule dell'epidermide soprattutto negli stati più superficiali. L'epidermide da un punto di vista strutturale presenta 4-5 strati che hanno cellule con forma diversa e con funzioni diverse. A partire dallo strato più profondo troviamo lo strato germinativo o strato basale. Poi passiamo allo strato spinoso, lo strato granuloso, lo strato lucido che è presente soltanto nella cute spessa, cioè nel palmo delle mani e nella pianta dei piedi, e poi infine superficialmente troviamo lo strato corneo. Lo strato basale o germinativo consiste di un singolo strato di cellule che appoggiano sulla lamina basale. La forma delle loro cellule è una forma cuboide o cilindrica, presenta dei nuclei piuttosto grandi e scarso citoplasma. Le cellule che commongono questo strato sono dei cheratinociti di tipo staminale, cioè significa che danno origine ad una divisione asimmetrica, cioè si dividono dando origine a cheratinociti che poi saliranno verso lo strato corneo e daranno origine anche a cellule staminali, cioè a altri cheratinociti staminali. Così si contribuisce al continuo rinnovamento dell'epidermide. Oltre a questa funzione di dare origine a altri cheratinociti, lo strato basale ha la funzione di ancorare saldamente l'epidermide al derma sottostante. Per fare questo le cellule possiedono degli apparati di giunzione molto specializzati, quali emodesmosomi e adesioni focali. Andando più avanti, cioè allo strato superiore, troviamo lo strato spinoso. Queste si originano dalle cellule differenziate. Questo strato spinoso è anche detto strato di malpighi. Sono cellule molto polietriche, con più citoplasma e possiedono delle stroflessioni citoplasmatiche chiamate spine, che si incontrano con quelle delle cellule adiacenti e si uniscono tramite desmosomi, così che la cellula ha un aspetto spinoso. Nel nucleo sono ben visibili i nucleoli, che testimoniano l'intensa attività sintetica. Infatti si produce una grande quantità di cheratina, che si associa a formare delle tonofibrille, che poi si condenseranno in tonofilamenti. Nelle cellule dello strato spinoso sono anche visibili due tipi di granuli rivestiti da membrana, i melanosomi, che contengono melanina prodotta dai melanocidi, e i cheratinosomi, che contengono materiale lipidico, che poi verrà riversato sulla superficie della cellula per costituire una barriera intercellulare all'acqua. Man mano che questo strato spinoso plorifera, le cellule salgono sempre più in superficie e vanno a costruire lo strato granuloso. Questo strato granuloso è formato da 3-5 strati di cellule appiattite, contenenti grossi granuli di cheratina. Solamente nell'epidermite della cute spessa, perciò nel palmo delle mani e nella pianta dei piedi, abbiamo lo strato lucido, che è formato da pochi strati di cellule acidofile. Sono prive di nucleo e risultano rifrangenti nei preparati istologici. Questi formano una linea ondulata al di sotto dello strato granuloso, al di sopra, scusatemi, dello strato granuloso. Infine, più superficialmente, troviamo lo strato corneo, che è lo strato più superficiale. È formato da cellule appiattite privi di nucleo e pieni di filamenti di cheratina. Lo spessore è molto variabile e dipende da dove, da quale sito epidermico stiamo parlando. Al di sotto della membrana plasmatica, le cellule corneificate presentano un involucro cellulare corneificato, che costituisce una barriera contro gli insulti chimici e meccanici dell'ambiente esterno. Abbiamo anche uno strato di idrossiceramide, che è formato da un monostrato di molecole lipidiche, che provvede all'impermealizzazione dell'epidermide. Le cellule dello stato corneo sono il risultato del differenziamento delle cellule dallo strato basale fino a qui, fino a quest'ultimo strato, lo strato corneo. Questo differenziamento ha un tempo che varia da 15 ai 30 giorni. Oltre ai cheratinociti, l'epidermide contiene anche altri tipi cellulari, quali melanosomi, che sono quelle cellule che danno il pigmento alla pelle, e le cellule dell'Hangerhans. Le cellule dell'Hangerhans sono cellule capaci di presentare l'andigene. La cute è formata dall'epidermide e dal derma sottostante. Poi, in alcuni distretti corporei, troviamo anche l'ipoderma. Perciò, la cute, insieme agli annessi cutanei, cioè i peli e le ghiandole, va a formare l'apparato tegumentario. L'apparato tegumentario protegge il corpo da agenti dannosi e dagli stress ambientali, possiede recettori sensoriali, collabora alla termoregolazione e all'escrizione di sostanze, grazie alle ghiandole annesse. La pelle è l'organo umano di maggiore estensione ed è composta da due principali componenti. Una componente epiteliale, cioè l'epidermide, che abbiamo visto che è un epitelio pluristratificato piatto cheratinizzato, è una componente connettivale, il derma. Il derma, oltre a fungere da connettivo, funge anche da tessuto che dà nutrimento alla componente epiteliale sovrastante. Infatti, l'epidermide non è vascularizzata, perciò trae nutrimento attraverso la diffusione dal derma sottostante. Il derma è costituito da tessuto connettivo fibroso, nello specifico è un connettivo denso a fibre irregolari e in esso si approfondano i bulbi piliferi, le ghiandole sudoribare e sebacee. Ovviamente, a differenza, come abbiamo detto prima, dell'epidermide, il derma è riccamente vascularizzato e innervato e, siccome è innervato, è responsabile della sensibilità tattile e dolorifica. Al di sotto del derma troviamo l'ipoderma, che è uno strato più profondo ed è costituito da connettivo lasso, perciò in questo connettivo sarà più abbondante la matrice amorfa rispetto alle cellule e alle fibre, in cui si trovano disperse ovviamente anche cellule ricche di grasso, cioè gli adipociti. L'ipoderma ha la funzione di termoregolazione, infatti la tipocita ha come funzione principale, oltre a una riserva energetica, funge da cellula che regola la termoregolazione. È una riserva di grasso e anche ci protegge dagli stress meccanici, funge da cuscinetto. L'apparato documentario è composto anche dagli annessi cutanei. Questi sono i peli, i capelli, le unghie, le ghiandole sebacee, le ghiandole sudoripere e una speciale ghiandola è anche la ghiandola mammaria, che come vedremo è una ghiandola composta. Ragazzi buongiorno, mi presento, mi chiamo Ruggero Stefano. Gli epiteli ghiandoli costituiscono il parenchima delle ghiandole. Le ghiandole sono organi specializzati nella secrezione, cioè la produzione di sostanze destinate ad essere segrete dalla cellula, per poi svolgere una funzione particolare. La prima divisione è che le ghiandole sono suddivise in ghiandole esocrine e ghiandole endocrine. Le ghiandole esocrine o a secrezione esterna riversano il loro segreto sulla superficie corporea, oppure nelle cavità di organi interni. Quindi possono essere, come esempio, le ghiandole sudoripare, che riversano il proprio segreto all'esterno sulla superficie dell'epidermide, oppure il fegato. Sono costituite perciò da una porzione chiamata adenomero, che è l'unità secernente, e da un dotto escretore. Questo comunica con l'esterno. Poi, come vedremo, ci potranno essere più adenomeri o più dotti escretori. Le ghiandole endocrine, invece, sono ghiandole a secrezione interna e riversano il loro segreto, che in questo caso è detto ormone, nella rete capillare. Sono sprovviste di dotti escretori, ma esse si presentano come gruppi di cellule intorno ad una fitta rete capillare. Poi possiamo vedere che questi gruppi di cellule si andranno a... si presenteranno in diverse forme, in gruppi aventi forma diversa. Potranno essere a grappolo, oppure sotto forma di una linea continua, oppure follicolari. Soprattutto questa conformazione follicolare la avremo in una speciale ghiandola, che è detta tiroide. Tutte le ghiandole, sia endocrine che esocrine, originano da un'immaginazione dell'epitelio di rivestimento. Poi, per quanto riguarda invece l'origine embrionale, le ghiandole hanno origine mesenchimale. La classificazione delle ghiandole esocrine può essere effettuata in base a diversi criteri morfo funzionali. Possono essere classificate in base al numero di cellule e distinguiamo le ghiandole unicellulari e ghiandole pluricellulari. Le sole ghiandole unicellulari sono rappresentate dalle cellule mucipare caliciforme. Dalla forma dell'adenomero possiamo avere ghiandole tubulari, acinose, alveolare, tubuloacinose o tubuloalveolari. Queste ultime due sono adenomeri di tipo misto. Si possono classificare in base al tipo di dotti, perciò avremo ghiandole semplici, ramificate o composte. Le possiamo classificare in base alla modalità di secrezione, così avremo ghiandole merocrine, ghiandole apocrine e ghiandole olocrine. Possono essere classificate in base al tipo di segreto in sieriose, mucose e miste. Le ghiandole endocrine invece si distinguono dall'esocrine per l'assenza di dotto escretore e anche per la natura del loro segreto, che viene chiamato ormone. Questo viene riversato direttamente nei capillari sanguigni e può raggiungere distretti anche distanti. Le cellule dell'organo bersaglio vengono riconosciute dall'ormone grazie a specifici recettori ormonali, che sono macromolecole proteiche o glicoproteiche di membrana, o delle volte possono essere anche intracellulari, che sono specifiche per ogni determinato ormone. Da un punto di vista invece strutturale, le ghiandole endocrine possono organizzarsi in modi diversi. Si possono raggruppare i nidi di cellule secerdenti, che sono disposte in mezzo a una rete capillare, o si raggruppano in cordoni di cellule, sempre adecenti ai capillari. O un'altra organizzazione è quella follicolare che abbiamo già detto prima, cioè agglomerati sferici di cellule che circoscrivono una cavità che contiene l'ormone. Questa organizzazione è tipica della tiroide. In ogni caso bisogna considerare che in una ghiandola endocrina è presente uno stroma connettivale reticolare che sostiene le cellule secernenti, cioè le cellule che sono, fanno parte dell'epitelio. Il tessuto connettivo deve il suo nome alla capacità proprio di connettere strutturalmente e funzionalmente tessuti diversi tra di loro e così anche a fungere da riempimento e sostegno degli organi molli. Poi collega lo scheletro ai muscoli e come vedremo questa funzione è data dalla cartilagine articolare che è un tessuto connettivo. Poi il tessuto connettivo strutturalmente composto da cellule.